Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo ruby, oggi volevo parlarvi di steline su Goodreads ovvero quale criterio uso per dare le stelle su Goodreads che vanno da 1 a 5 Goodreads è questo social network dove voi potete condividere le letture, il progresso delle letture scrivere delle recensioni e insomma commentare anche le altre recensioni insomma scrivere un parere eccetera allora una stella io la do ai libracci, libroidi dove ci sono sempre le solite dinamiche, sempre le solite cose libri prevedibili, scritti con lo stampino, libri dove lei alza gli occhi al cielo, lui è ricomiglionario, lui la salva di qua di là comunque cose trite e ritrite e straritrite e io penso che dopo un po' la minestra riscaldata ti fa venire il vomito quindi una stella sicuramente per quella tipologia di libri ma mi è capitato anche di dare una stella ad altri libri che esulano da quelli che sono i libroidi perché proprio c'è una carenza di contenuto quindi non mi ha dato assolutamente nulla due stelle io le do nel momento in cui non entri in empatia con la protagonista entrare in empatia con la protagonista vuol dire che non ti risulta simpatica o antipatica ma che in quel momento stai provando quello che prova lei si crea un feeling, questo feeling non si è assolutamente creato poi se la protagonista durante tutto il romanzo fa sempre le solite cose non si evolve eccetera eccetera allora assolutamente no però oltre alla protagonista anche tutto l'entourage è urticante quindi io non salvo assolutamente nessuno caso lampante i fidanzati dell'inverno io ho dato due stelle perché ho apprezzato molto la trama ho apprezzato molto l'idea ma secondo me è stata sviluppata male la protagonista è qualcosa di inqualificabile e anche tutti gli altri protagonisti tutti i personaggi primari e secondari eccetera sono qualcosa di veramente urticante quindi due stelle tre stelle le do senza infammi e senza lode cioè ci sono tanti aspetti negativi quanto sono gli aspetti positivi cioè è un libro che mi è piaciuto che ho trovato delle pecche però se è una saga ho voglia di andare avanti oppure se non è una saga è un libro che in qualche modo mi è piaciuto però manca un qualcosa ci sono delle parti che magari non ho capito non ho capito magari letto lo scrittore dove volesse andare a parare caso lampante è Shatter Me che io avevo trovato aspetti sia positivi che negativi e poi ho deciso di continuare la saga che mi è piaciuta tantissimo e un altro caso è Nel guscio di Mekiwan il libro mi è piaciuto ho trovato un'idea veramente molto interessante però non ho capito dove voleva andare a parare lo scrittore non ho capito insomma dove voleva andare a parare che cosa voleva dirmi però nonostante io gli abbia dato tre stelle voglio comunque continuare a leggere qualcosa di Mekiwan quindi mi porta comunque ad approfondire quello che è la saga o quello che è lo scrittore quattro stelle quattro stelle c'è qualcosa che manca magari ci sono dei buchi di trama magari ci sono delle cose non dette magari ci sono delle cose che si poteva dire o non si potevano dire e quindi è un quattro stelle non raggiunge la perfezione perché ha insomma delle cose un po' che mi hanno lasciato lì così quattro stelle io l'ho data al secondo volume della saga di Neve come cenere che adesso non mi ricordo come si chiama comunque vi ho lasciato vi ho fatto la recensione le lascio qui da qualche parte 5 stelle è il romanzo perfetto ma la perfezione secondo me deriva non dal fatto che sia scritto bene non dal fatto che sia tutto perfetto ma mi ha lasciato mi ha fatto provare delle sensazioni mi ha fatto provare che ne so gioia, rabbia piuttosto che risentimento cioè una serie di una serie di emozioni e io solitamente do 5 stelle nel momento in cui io quando non ho il libro in mano quindi mi capita che in quel momento non sto leggendo il libro perché sto facendo altro per dire io continui a pensare al libro durante tutta la giornata cioè mi è capitato soprattutto con Fallen nel momento in cui io non stavo leggendo il libro quindi ce l'avevo a casa ed ero a lezione al corso che continuavo a pensare al libro e pensavo oddio ma come andrà a finire come andrà cosa succederà poi e io continuavo a pensare e quando tornavo a casa non vedevo l'ora di prendere in mano il libro perché volevo sapere assolutamente come continuava e volevo assolutamente colmare insomma i dubbi che mi erano venuti durante la giornata 5 stelle anche se il libro ha un finale aperto perché io sono per i finali aperti però il finale aperto è qualcosa di eccezionale perché dà moda e maniera al lettore di immaginare quello che sta venendo dopo e quando è un finale che mi sorprende perché molto spesso soprattutto tu nelle saghe tu sai più o meno dove il libro vuole andare a parare dove andrà a parare la storia mentre quando ti sorprende quando ti stupisce è qualcosa di veramente eccezionale perché tu avevi immaginato un qualcosa avevi immaginato un finale ma è completamente diverso come è successo con Fallen della saga di Fallen ovviamente io sono arrivato al quarto Rapture che io ero cioè alla fine di quel libro io ero assolutamente devastato e assolutamente sorpreso quindi avevo una serie di sentimenti che io non riuscivo non riuscivo bene a capire ed è stata per me un'esperienza eccezionale altro romano da 5 stelle è stato io sono il messaggero di Mark Zusak che è stato un libro dove la storia è veramente molto molto eccezionale e tu non riesci a capire bene dove vuole andare a parare no si c'è questa storia eccetera però tu non riesci a immaginare come andrà a finire e il finale è stato veramente commovente ed è stato veramente qualcosa di geniale molto bene questi sono i criteri che solitamente io uso per dare le stelle però tutto può cambiare nel senso che se il libro poi mi ha dato un qualcosa o comunque insomma c'è anche il triangolo amoroso altro aspetto che mi piace magari mi lascio prendere da sentimento e gli do 5 stelle ci sono dei momenti in cui uso la razionalità insomma dipende sempre dal libro e dipende da quanto mi ha dato insomma però diciamo che in linea di massima questi sono i miei criteri molto bene fatemi sapere voi come date le stelle insomma con che criteri voi date le stelle fatemi sapere qual è stato il libro da 5 stelle in assoluto io vi saluto vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima ciao